Agrilevante è il luogo delle tecnologie ma anche delle idee e dei progetti. Sono le parole del direttore generale di Federuna Coma presentando nella sede del SIEM di Valenzano la settima edizione della rassegna biennale delle macchine e delle tecnologie per l'agricoltura dell'area mediterranea in programma in Fiera Bari dal 5 all'8 ottobre. 230 le imprese ad oggi che hanno coperto tutta la superficie interna del quartiere fieristico e un'edizione che vede delle grandi novità. Una sottolineatura con un'area dedicata per la prima volta alla robotica, all'elettronica avanzata ma ancora a refocus sul giardinaggio, l'irrigazione, l'olivicoltura, la zootecnia, le bioenergie. Agrilevante è organizzato in collaborazione con il Comune di Bari, Università di Bari e Foggia e SIEM è sostenuto dalla regione e si presenta come un grande laboratorio per lo sviluppo del settore. Il protocollo prevede anche una sensibilizzazione, una comunicazione da parte nostra in tutti i paesi dove svolgiamo attività di cooperazione internazionale, di informarli su queste fiere, sull'importanza della meccanizzazione per uno sviluppo agricolo più efficiente, più efficace e più sostenibile. Sono attese oltre 35 delegazioni. Ma soprattutto i paesi nordafricani e del Medio Oriente, dal punto di vista della meccanizzazione agricola sono paesi che possono crescere tantissimo, che hanno delle percentuali di crescita che vanno dal 2 al 5-8% all'anno nei prossimi 4 anni.